Si è sentito un urlo e poi il silenzio. Da lì sono scattate le ricerche. È successo nel pomeriggio di ieri intorno alle ore 17 nel comune di Ascea lungo il sentiero degli innamorati. Sul posto i vigili urbani e i carabinieri della locale stazione coordinati dalla compagnia di Vallo della Lucania a sorvolare il percorso da dove è partita la richiesta di aiuto, anche un elisoccorso che ha sorvolato la zona per diverse ore. Sul posto anche il soccorso alpino e speleologico della campagna insieme all'aeronautica militare. Sono stati momenti di tensione per i soccorritori che hanno temuto il peggio per le persone che hanno inviato la richiesta di aiuto, ma a quanto pare le presunte urla sentite anche da diversi cittadini non avrebbero trovato riscontro nelle ricerche svolte. Ad un anno dalla morte del giovane Simon Gauthier, escursionista francese trovato senza vita dopo nove giorni di ricerche tra i sentieri di San Giovanni a Piro, è ritornata la paura e l'apprensione per il Cilento, ma fortunatamente è stato solo un falso allarme.